La lunga marcia del Brasile è quasi finita. A poco più di una settimana dal calcio d'inizio del Mondiale di Casa contro la Croazia, la tensione agonistica tra i giocatori della Seleção sta crescendo. Il primo ad augurarsi che il tempo voli da qui al 12 giugno sembra il sempre più nervoso Felipão Scolari. Sentiamolo. Se fosse oggi, il dia 12... Martedì sera la Seleção giocherà la prima amichevole contro Panama. I centroamericani non ce l'hanno fatta a qualificarsi e l'ex Cagliari dell'Ivaldece ci ha perso pure la panchina. Scolari non vuole sottovalutare assolutamente nessuno. In questi amichevoli non prenderò niente per scontato. Panama non ha staccato il biglietto per il Mondiale solo all'ultima giornata delle qualificazioni venendo superata dagli Stati Uniti. Sono andati davvero molto vicini al Mondiale. E sono stati decisamente sfortunati. Non solo qui, solo perché hanno subito un gol nel tempo di recupero dell'ultima partita del girone di qualificazione. Davvero una sfortuna. Inutile dire che Scolari si augura che una bella vittoria inizi a scaldare l'atmosfera in vista del debutto mondiale.